La Giunta Comunale di Monza ha approvato il nuovo piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il documento, aggiornato ogni anno, include correzioni e proposte di miglioramento, recepisce le modifiche normative e i nuovi indirizzi espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il piano è stato completamente rivisitato per integrarlo con il nuovo programma di mandato. Abbiamo voluto semplificare il documento, ha precisato l'assessore alla legalità Ambrogio-Moccia, anche per agevolarne l'applicazione, riconoscendone appieno il valore nel migliorare la qualità degli atti, la trasparenza dei procedimenti e l'accrescimento della sensibilità diffusa in tema di legalità all'interno dell'ente. Il grado di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza in comune si attesta all'83%, grazie anche all'impegno sul fronte della formazione interna, all'introduzione di disposizioni operative e ai controlli di regolarità su atti e procedimenti. Tra le principali novità introdotte, come detto, il collegamento degli obiettivi del programma di mandato con quelli anticorruzione e le misure di prevenzione correlate, evidenziando un percorso univoco e omogeneo, la restituzione ai dirigenti di una nuova mappatura dei procedimenti, frutto dell'integrazione di più banche dati, la rielaborazione dei criteri di analisi del rischio, la semplificazione nella lettura del piano anche attraverso checklist da seguire, il potenziamento delle attività di contrasto al riciclaggio. Completa il quadro la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, una cooperazione per sostenere la legalità economica e finanziaria, in particolare nell'ambito delle risorse destinate al PNRR e alle prestazioni sociali.